Dottore, sì 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 sì, mi trovo qua, mi trovo qua, sì, vi chiamo dopo. Sì, Dottore, persiste il dolore, non ce la faccio più, mi chiamo dopo, sì sì sì. Buongiorno. Sì, Savio. Tutto bene? Come stai, tutto bene? Tutto bene, ringrazio. Che ci fai qua? Praticamente io mi trovo qua perché mi ha mandato il mio medico. Medico? Sì, il medico. Come? Perché io soffro di un mal di schiena esagerato, ho provato tutti i farmaci del mondo, ha detto il Dottore, se vuoi la soluzione, vai da divani del sole e se leviamo alle schiena. Savio, allora ora ti faccio vedere la cosa giusta per te. E' chiaro, vanno a fare. Andiamo. Savio, prova questo primo divano, vieni, accomodati qua, vieni. Vai. Aspetta, piano, 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 piano. Guarda questo qua. Guarda questo mio. Mamma mia, che bello. Guarda qua, Savio. Guarda qua. Ti alza. Sì, questo è relax. Bello. Elettrico. Sì, elettrico. Quindi non devo fare nemmeno sforzi. No. Ma guardate, una poca cabalizzo. Mamma mia, che bello. Già lo sto ripetendo. Sta sparendo il dolore. Questo lo chiudi e ti metti pure qua. Ma cabalizzo. Guardate, guarda. Mi piace. Bello, bello, verano. Guardate qua, che bello. Savio, ora ti faccio vedere quest'altra soluzione. Vieni, seguimi. Fammi vedere. Guarda qui. Mi posso accomodare? Siediti, Savio, siediti. Guarda qua, che bello. Mamma mia. Quando sei solo, non puoi aprire anche singolarmente. Non c'è bisogno che apri tutti e due. Spettacolare. Guarda la parte semplice di com'è. Poi, per problemi di spazi, anche la seduta contenitore. E poi, Savio, per il vero relax, la seduta recliner elettrica. Ma guarda un po', che bello. Questi li fate voi? Li facciamo noi su qualsiasi misura. Colori? Qualsiasi colore, qualsiasi tessuto, personalizzazione di bicolore, personalizzazione di piedi. Hai vari braccioli pure da scegliere. Straordinario, guarda, non... È impossibile non comprare più. Ti devo dire la verità. Mi sa, mi sa, mi sa, che non sto a Giuliano, ma sei da Dubai. Sono molto rilassato e, la verità, bello, complimenti, bello. Daniele, papala, papala, dimmi la verità. Oggi le cose non stanno bene. Avete dei divani che sono la fine del mondo. Ma qualcosa di più economico per me ci sta? Ah, certo, Savio. Eccoli qua. Vedi? Questi qua? Sì, questi qua. Questo è quello economico? Sì, questo è quello economico, ma di prezzo, non di qualità. Ho capito, ma prima che un massetto, quante costo? Tutti e due, Savio. 650 euro. E allora facciamo una cosa, un massetto proprio, portami la casa. Allora, Savio... Scusa, sto parlando con mia moglie, posso... Prego, un'antica. Adesso, tutto a posto, si è tolto male le schienze. Sto una bellezza. Sì, noi mi hanno portato, aspetta, dove vi trovate? Ci troviamo a Giuliano, in via Oasis Sacro Cure, 187, vicino all'ospedale di Aversa. Poi ci troviamo pure a Scafati, in via Dante Alighieri, 47. Oggiù, divani del sole. Pur quando giova, riesce sempre usare. Parola di Savio Cavalli. Grazie. Grazie.